Ma figurati, ovviamente io sono contento che adesso si parli così tanto di libertà di espressione, però mi spieghi perché tutti quanti vanno in tv e parlano sempre degli stessi argomenti, soprattutto de uno, diciamo. Perché nessuno viene in mente di difendere dei temi un poco meno mainstream? Per esempio, nessuno difende il diritto di espressione di noi veneti. Eh sì, sì, perché noi veneti non possiamo espinuirci liberamente. Esatto. Vieteresti mai tu a un napoletano di dire ue ue? A un romano di dire ue 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 ue? Adesti mai da un milanese dirgli basta, da oggi non si può più dire figatec, figatec? Eh. E allora mi spieghi perché noi non possiamo bestemmiare. Perché la bestemmia in Veneto è insita nel nostro DNA. Se non possiamo bestemmiare, siamo meno mati del nostro esprimerci. Mi vedi così, è intero. Ma in realtà, una metà di tre quarti è tutto paralizzato, non può esprimersi liberamente. Volete fare davvero i rivoluzionari? Eh, che adesso PMD o facciamo la rivoluzione in tv? Eh, Fedez sembra Giovanna d'Arco. Andate in una bella prima serata così, edite una bella serie dei bastieme e fate anche una bella inventiva contro questa legge ingiusta. Cioè, la legge è già da... eh, contro la blasfemia. Non si può bestemmiare. Poi dico, anche una roba fantasiosa, noi qua in Veneto ce ne inventiamo, passavamo le serate, ai tempi non c'era internet. Bevevamo due bicchieri in più e stava lì, addio qua, addio là, scendevano giù tutti i santi, era un divertimento. E nessuno si offendeva. L'intenzione, no? D'altra onda, la bestemmia è rimasto uno degli ultimi tabù. Pensate che ad oggi è ancora peggio che parlare male dei vaccini. Ad oggi, eh? Ancora. Peggio. E forse... Forse è meglio lasciarle robe così, mi sa... Per di insibacolina.